Quando sei sulle scale appena arrivi Buonasera, saluti, bentrovati, siamo qui con il fiordo di furore alle nostre spalle in attesa dello spettacolo delle sirene, queste giovani ballerine americane tutto attrezzato e fiorto, fin anche con protezione civile, traffico da organizzare il pubblico sta incominciando ad affluire, è un po' problematica ma sono state aggirate e risolte a po' due minuti faccio la buzica Grazie